Cari fratelli e sorelle, con questa solenne concelebrazione inauguriamo la tredicesima Assemblia Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha per tema la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Questa tematica risponde ad un orientamento programmatico per la vita della Chiesa, di tutti i suoi membri, delle famiglie, delle comunità, delle sue istituzioni, e tale prospettiva viene rafforzata dalla coincidenza con l'inizio dell'anno della fede, che avrà giovedì prossimo, 11 ottobre, nel cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Rivolgo il mio cordiale e riconoscente benvenuto a voi, che siete venuti a formare questa Assemblia Sinodale, in particolare al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e ai suoi collaboratori. Rivolgo il mio cordiale e riconoscente benvenuto a voi, che siete venuti a voi, che siete venuti a